ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video allora ve lo dico subito mi vergogno da morire perché ho fatto le riprese della p2000 la mia e mi sono reso conto che è piena di polvere però io ci gioco non è che la devo spolverare quindi siate clementi con me pensa schifo va bene non importa dai ragazzi l'importante parola di questa pedaliera p2000 nuovo standard delle pedaliere sim racing la p2000 è la prima pedaliera idraulica sim magic in grado di riprodurre con estrema fedeltà le sensazioni di una vera auto da corsa ragazzi grazie al pistone idraulico combinato con un sistema delastomero molle potrete percepire in maniera cristallina l'attrito causato dai dischi del freno fermi allora questo è quello che tutti voi avete l'abitudine di sentire da youtuber molto più efferrati in materia di quanto non possa esserlo io volete un esempio mirko de santis che saluto giorgio segretti che saluto e barry roland di sim racing garage che non penso che guarderà questo video che hanno le conoscenze tecniche e l'esperienza per potervi raccontare questo tipo di gioiello nel modo più dettagliato eccetera eccetera infatti il nostro caro mirko de santis ne ha parlato lungamente in un video di questa sim magic addirittura ha avuto la prima mondiale quindi ragazzi non mi riconosco a fare una recensione tecnica perché non è cosa mia ragazzi quindi facciamo come al solito vi dico cosa ne penso di panza come giocatore diciamo con un paio di anni di esperienza l'unica cosa che vi posso dire di certo è perché l'ho scelta ragazzi io sono mi sono innamorato di questa pedaliera a livello estetico appena l'ho vista basta amora prima vista e sapete che quando succedono queste cose c'è il così che vi arriva e vi possono presentare tutti i modelli che volete eccetera eccetera ma io quella mi piace proprio non lo so e almeno che non la provate e che veramente non ci sia feeling quando qua dentro avete deciso o qua dentro avete deciso la prendete è così allora io ho voluto far funzionare un pochettino la mia parte razionale quella che riesce ogni tanto a schiacciare la parte bambino che dice la voglio la voglio e avendo la fortuna di essere stato accolto dal team di arc team grazie ancora ragazzi siete stati fantastici ho avuto la possibilità di testarne due quindi la invicta della asetec e la p2000 ragazzi vi devo dire la verità sono saltato sulla asetec l'ho provata mi hanno spiegato tutta la tecnologia quello che fa il distacco delle pasticche del dei freni eccetera che a livello di performance forse meglio eccetera quello che vorrete ma quando ho appoggiato il piede su questa pedaliera l'amora a prima vista si è veramente trasformato in qualcosa di concreto ho fatto tutte le riflessioni possibili immaginabili ho fatto i ragionamenti eccetera ma alla fine mi sono reso conto anche se lo sapevo già che io non compravo questa pedaliera per avere più performance ragazzi ci sono persone che hanno dei volanti g27 g25 che hanno pedaliere di tutto rispetto a g20 del g25 g27 o di fasce ancora più basse che vi fanno il mazzo così ragazzi perché l'hardware dà una mano ma non vi cambia il manico non è che vi dà i superpoteri quindi non potevo basare la mia scelta su migliorare le mie performance allora mi sono detto vai distinto fabbri perché quando vai distinto difficilmente di sbagli e infatti istintivamente ho detto ora ragazzi è inutile io non vado per la performance la p2000 proprio mi piace il feeling che c'ha e oltredutto anche a livello di tecnologia quello che mi piace di questa pedaliera al di là del fattore estetico quello che volete e che vi dà la possibilità di poterla configurare parametrare a livello hardware cioè fisicamente come vi piace ora non posso bloccare il video che c'è dietro però li vedete tutte quelle asole lì vi danno la possibilità di spostare ogni singolo pedale dove volete avete la possibilità c'è anche il pistoncino si vede da qua al centro che è regolato diciamo abbastanza morbido su questo freno qui in questo momento che vi dà la possibilità di come far giocare la leva più la mettete in alto e più è resistente più la mettete in basso e più la resistenza viene meno e quindi avete un pedale più leggero questo è solo un esempio poi posso parlare della ghiera che si vede in fondo dietro al pedale dell'acceleratore sei posizioni che vi dà più forza resistenza o meno resistenza anzi adesso si vede proprio bene sulla destra e poi si vedono questi buchi qua ce ne sono quattro per pedale solo sulla frizione ce ne sono due che più alza diciamo il perno e più c'è resistenza inoltre lo vediamo benissimo dal pistone qui che diciamo fa la parte idraulica dove ci sono l'accoppiata delle molle che in base al colore vi dà una resistenza quindi rossa mi pare che sia più forte gialla da una forza diversa quello che è combinata con questo gruppo di molle che vi danno andate a trovare qualsiasi tipo di regolazione livello e resistenza del vostro pedale ragazzi solo questo mi ha fatto dire mamma quanta polvere ragazzi ma meno male che ho fatto io ve l'ho anticipato mi vergogno vabbè non importa continuiamo sono uno dei pochi youtuber che non gliene frega niente della dust della polvere e quindi tutta questa combinazione di poter configurare la vostra pedaliera come volete per me è fantastico è fantastico vi porto un esempio pratico campionato a sette corse competizione bmw m2 mi rendo conto che con il mio stile di guida questa macchina qui bisogna preferire una frenata più leggera e diciamo calibrata sull 85 90 per cento perché frena meglio perché bisogna stare dritti questa qui è una macchina che insomma non vuole sbavature non trovato non trovavo e queste mea culpa sono io che sono cretino non trovavo sul gioco la possibilità di abbassare la potenza frenante mi è sembrato subito strano ma nell'urgenza di queste qualifiche cosa ho fatto ho abbassato il perno del del freno infatti si vede proprio cioè l'ho alzato scusatemi e non si vede perché l'ho messa al 3 proprio per avere più resistenza al pedale quindi avere più difficoltà ad arrivare al 100 per cento infatti guardando la telemetria dalla mia mega dashboard di epilab ciao ed di grazie dove c'è telemetria la telemetria proprio della frenata riuscivo a vedere che insomma stavo più o meno tra l'85 90 per cento quindi ho anche con queste tutte queste possibilità di configurazione avuto la possibilità di correggere rettificare questo problema che avevo appunto in gara ovvio che poi mi sono sentito come uno stupido quando ho trovato che si poteva abbassare da via software ovviamente questa spettacolare perché passatemi il mega complimento pedaliera è dotata di un software che vi dà la possibilità di creare infiniti profili in base a quelle che sono le vostre esigenze cioè io voglio che premendo al cento per cento ci sia una curva particolare e c'è potete insomma potete fare quello che volete con quel software lì quindi tutta questa configurabilità non so se si dice mi ha portato anche a dire ma cavolo ma perché non me la prendo questa perché alla fine mi andrà bene cioè troverò la configurazione adatta per me e in realtà ci ho messo 30 secondi perché ho spostato solo una volta un perno perché andava benissimo anche le molle vedete sono quelle standard che vi danno standard sono quelle di base che vi danno e praticamente si mi sono adattato subito anzi si è adattata subito questa pedaliera perché questa il progetto che sta dietro questa pedaliera è quella di adattarsi a tutte le esigenze ce ne sono altre che lo fanno ma non me ne frega niente stiamo parlando di questa p2000 con questa cella di carico da 200 kg con una nel complesso una qualità di prodotto e di materiali veramente eccezionale ragazzi io non ho niente da nient'altro da raggiungere io penso che si sente il mio entusiasmo per questa pedaliera che ho fortemente voluto ovviamente potreste dirmi ah ragazzi fabrizio però 900 bombe sono tante ragazzi però pagate il progetto pagate la duttilità pagate la qualità dei prodotti pagate tutto quello che sta intorno a questa pedaliera qui pagate anche il seguito dell'assistenza il post vendita ragazzi anche altre aziende potete sicuramente ci saranno anche rapporti qualità prezzo migliori ma non hanno nessun valore rispetto al fatto che se io ho gli occhi che scintillano e brillano quando guardo la mia pedaliera perché potreste dirmi ma la uns che vinto potreste tutto quello che vedete ragazzi ma il il prodotto deve piacere a chi lo compra e oltre se volete risparmiare potete togliere la frizione che mi pare che risparmiate forse 200 euro non lo so non l'argomento non sta qui volevo solo trasmettervi che cosa può e regalarvi questo tipo di pedaliere è quello che mi regala a me come sensazione mi diverto tantissimo mi piace veramente da morire ragazzi e niente con gli occhi scintillanti vi ringrazio per avermi seguito non esitate a lasciarmi un commento non parlate della polvere che c'è sulla pedaliera ve l'ho detto ragazzi perché noi ci vediamo prestissimo ovviamente iscrivetevi al canale tanto è gratuito attivate la campanellina lo sapete distruggete quel pulsante pollice in su ragazzi vi do appuntamento a prestissimo per un altro video da fabrice è tutto un abbraccio ciao